Oggi presso l'ambito territoriale della provincia di Vercelli si è riunito il tavolo della sicurezza stradale. Il tavolo della sicurezza stradale è un progetto provinciale che vuole coinvolgere in rete tutte le istituzioni del territorio, tutte le forze dell'ordine e gli enti istituzionali che possono collaborare all'interno delle scuole per le norme e la convivenza civile sulla strada. Abbiamo preventivato una formazione docenti il giorno 17 gennaio grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine. Stiamo cercando di portare avanti il progetto Muoversi in bicicletta con il coinvolgimento della Polizia Municipale all'interno delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria, l'arma dei carabinieri che ci aiuterà all'interno delle scuole secondarie di primo grado e la polizia stradale all'interno delle scuole secondarie di secondo grado. Ci sarà un grosso progetto che porteremo avanti quest'anno, Muoversi in bicicletta, che terminerà con la giornata sulla sicurezza stradale il 25 maggio. All'interno di queste iniziative sull'educazione stradale le forze dell'ordine collaboreranno all'interno degli istituti con degli interventi mirati sui nostri studenti. È importante l'esperienza di oggi perché ci siamo trovati intorno a un tavolo carico di entusiasmo dove l'ufficio scolastico provinciale ha convocato tutto il territorio, oltre che le scuole, proprio a discutere di sicurezza stradale. È necessario e doveroso da parte delle istituzioni rivolgere un forte ringraziamento alle forze dell'ordine che sono sempre disponibili in queste occasioni formative, proprio a sostenere la scuola e gli insegnanti, i docenti e tutti gli alunni, proprio in un cammino di formazione su quelle che sono le norme del codice della strada e non solo. Ovviamente tutto questo è fatto in un'ottica di prevenzione del danno. Si vuole davvero puntare a sensibilizzare i giovani, gli studenti, su quelle che sono le attenzioni previste dal codice della strada, ma anche metterli in guardia da quelli che sono i comportamenti pericolosi. Pensiamo all'abuso di sostanze stupefacenti, ad esempio, all'abuso di alcolici. Bella l'esperienza di oggi proprio perché abbiamo cercato di creare delle progettualità nuove che tengano conto di tutte le necessità per i ragazzi del territorio della nostra città, proprio con la voglia di sensibilizzarli a stare bene sulla strada, comportarsi bene sulla strada nel rispetto della propria vita e nel rispetto della vita degli altri. Per cui ancora un grazie davvero alle forze dell'ordine, all'ufficio scolastico provinciale, proprio per aver promosso questo tavolo dove si svilupperanno sinergie sicuramente importanti che porteranno a risultati meravigliosi.